Ivana a Spagna! Grazie! Meravigliosa! Ha incentilito una serata meravigliosa ma che oggi siamo andati oltre oltre perché lei è meravigliosa lei è esquisita lei è la donna più sensibile che abbiamo in Italia la cantante è il sociale, gli animali è qui, guarda quanti animali stasera che ci andiamo ti ringrazio ma Ivana noi abbiamo fatto un accordo venivi e ci cantavi tre successi però siccome qui c'è un signore che tu conosci, si chiama Teo? sicuramente Teo Spagna nato, vabbè, dove sei nata pure tu da quelle parti però la caratteristica è che oltre a essere il tuo, diciamo, fonico il tuo mentore è il produttore fa tutto lui, no? no, tutto lui no facciamo il signore però per un da voi so ma negli anni 90 lui ha fatto una canzone che non l'ha data a me eh, che non l'ha data a te non l'ha data a te non ci credeva nessuno perché chi l'ha cantata non dire il titolo no, no, ti pare che dico il titolo no, no, non dire il titolo chi l'ha cantata chi l'ha cantata si lavata le mani no, non te do l'immagine è arrivata una dal Brasile e io te do l'immagine abbiamo immaginato tutti sta canzone ma tu la puoi cantare io la canto però a quello che ti dicevo bisogno del vostro aiuto perché sono ancora a base con i cuori non l'avengono mai e loro autorizzano ma voi vi darete una mano anche se non sapete che cazzo è sì, sono tebole ma non lo so vi darete una mano sì fuori ma deve essere più forte perché stasera le terrazze te sei star qui da l'ho